Salve e bentornati. Il contributo di oggi verte in gran parte su un testo sociologicamente e filosoficamente fondamentale per il Novecento e per la comprensione della modernità, ossia La dialettica dell'illuminismo di Max Horkheimer e Theodor Adorno. Il titolo in tedesco sarebbe La dialettica dell'illuminismo. Perché questo testo è uno dei documenti più importanti per la comprensione della direzione che la società contemporanea ha intrapreso. Lungi da me l'idea di poter davvero spiegare nel dettaglio un testo di una tale densità e complessità teorica. Qui infatti il titolo che volevo dare al video è un accenno alla dialettica dell'illuminismo. Noi non facciamo qui come purtroppo, fin troppo spesso accade, non soltanto tra sistema appunto scolastico accademico diretto e sovvenzionato dallo Stato e dunque indirettamente dalle oligarchie dominanti. Un discorso che semplicemente riassume. Perché vedete, se voi fate delle brevi ricerche online, troverete tantissimi contributi sugli argomenti più disparati che offrono apparentemente dei discorsi. Ma in realtà stanno offrendo delle ripetizioni di discorsi. Cioè stanno ripetendo un copione. E questo non è, adesso, dico, coloro che magari lo fanno in buona fede va bene, ma questo purtroppo è un vezzo, un'impostazione che proviene appunto dall'impostazione che è stata data alle scuole, alla cultura, al discorso culturale sia questo filosofico ma anche scientifico di altro genere. Sia la struttura che io chiamo da verbale dei carabinieri, in cui tutta l'intera impostazione del sistema pseudoeducativo è quello del a domanda risponde, che appunto è la struttura del verbale dei carabinieri. A domanda X risponde Y. Il pensiero è un'altra cosa, perché per rispondere a domanda X, offrire la risposta Y, bisogna averla letta nel libro tale, nel libro quell'altro, oppure nella dispensa, averla ascoltata durante la lezione e poi andare là con la rispostina, come appunto durante un interrogatorio di polizia. Non è casuale questa struttura che si ripeta nelle strutture apparentemente dette formative, così come nelle strutture repressive. A domanda risponde Dov'era lei la notte tra il... Ero qui, so rispondere, dunque va bene, ho un alibi. Chi è Levi Strauss? Ho la risposta, dunque va bene. Ma non va bene. Io provo sempre, ad esempio, quando mi trovo in situazioni tali a evadere completamente questa struttura e partire da un discorso. Una delle cose che rendono confusi oggi gli studenti è quando non gli si chiede, dimmi cosa hai letto nel libro tale, ma gli si chiede cosa ne pensi, cosa te ne pare, cosa credi tu. Una delle domande ad esempio che io uso molto spesso è quella sul pi greco. Io chiedo perché pi greco è 3-14 periodico e non un altro numero. La maggior parte degli... questa è una domanda chiave, così come molte altre, perché ti fa capire se chi hai davanti si è posto il problema. Un numero non può essere, un numero così complesso, così incredibile come il numero trascendentale che è pi greco, non può essere preso come se fosse una cosa data. È così perché è così. Ora, l'impostazione comune, anche l'impostazione che viene invogliata e premiata, appunto, quella della domanda risponde, è quella mi dica quanto è 3 pi greco, mi dica come si può calcolare. Quando sai questo, ti viene insegnato che sai. Ma purtroppo, o per fortuna, non è così. E questo vale un po' per tutto. Vale ad esempio, come dicevamo, per questi discorsi che si trovano un po' in giro, un po' qua e là. Io qui, quando provo a proporre queste idee, prendo il libro che ho letto tempo fa, magari gli do una riguardata e propongo una serie di idee, concetti che emergono dal libro. Certo, sarebbe infinitamente meglio con un dialogo, ma abbiamo ripetuto ormai anche troppo spesso, che questo non è più oggi possibile. Non è più possibile perché il dialogo presunto culturale non può più raggiungere la società, in quanto se non viene inquadrato nella struttura da verbale, a domanda risponde, non viene più riconosciuto come tale. Per questo è così importante leggere testi come quello di cui proveremo ad accennare oggi, perché questo intanto è un testo di pensieri, non è un testo di ripetizioni, non è un testo di qualcuno che ha messo insieme un po' di belle parole per vincere un concorso a cattedra. No, anzi, questo testo è in realtà è ancora più una perla, una gemma, perché è un'anomalia, soprattutto è un'anomalia nella realtà accademica ed è un'anomalia dovuta all'epoca in cui questo testo venne scritto. Questo testo è stato scritto nel pieno della seconda guerra mondiale. E nel momento in cui sia Horkheimer sia Adorno erano scappati negli Stati Uniti d'America e guarda caso succede una cosa, che è una cosa che scavando tra i discorsi culturali reali si trova molto, si trova, ecco, si trova anche in altri loci. Ad esempio, quando Horkheimer e Adorno scapparono da, per vicende alterne, Adorno prima in Inghilterra, poi venne chiamato da Horkheimer in America, dalla dittatura nazista e da una morte sicura in Germania, si trovarono negli Stati Uniti al sicuro. Però questa sicurezza, come diceva il grande Dante, aveva un sapore di sale, come sa di sale lo pane altrui. perché Adorno e Horkheimer, iniziando le loro ricerche e iniziando a conoscere una società che si diceva libera, antitetica a quel totalitarismo dal quale erano sfuggiti, in realtà ne presentava anch'essa le forme. Adorno e Horkheimer faranno molti studi, ma questo è forse il testo più importante sulla natura di questa nuova modernità, che loro spiegano in grande dettaglio, con grande attenzione, ma anche con estrema profondità filosofica. Uno dei problemi che Adorno aveva, ad esempio, Adorno insegnò per un po' in Inghilterra, e nelle sue lettere, nella sua corrispondenza, lui era molto scoraggiato perché lo costringevano, la necessità degli studenti che si trovava, dei piani di studio che si trovava ad avere, con cui si trovava ad avere a che fare, lo costringevano a ridurre il suo pensiero ad una vulgata comprensibile per degli studenti che non sarebbero altrimenti stati capaci di comprendere un discorso più profondo. E questo Adorno lo viveva con grande disagio e come una grande sofferenza. Ma dicevamo, loro arrivano negli Stati Uniti che gli ha dato asilo, che gli ha salvato la vita, infatti ci sono quelli soliti che fanno commenti sboccati su questo fatto, dicendo che sono stati riconoscenti, ma il pensiero non ha riconoscenza, il pensiero deve essere o vero oppure non è pensiero, o è autentico o non è pensiero, non c'è la riconoscenza nel pensiero. Però siccome loro confessano sempre, io dico sempre che la gente confessa sempre, anche quando non credo di confessare, nel dire questo loro dicono, indirettamente quelli che accusano Orkheimer e Adorno di essere stati riconoscenti verso il paese che li aveva ospitati e protetti, stanno dicendo se tu mi proteggi e mi ospiti, io dirò la tua verità. Ora non lo sanno che stanno dicendo questo, ma è quello che stanno dicendo. Freud diceva nel caso, che è una notazione bellissima nel caso Dora, quando lui dice che quando le persone tacciono con la bocca parlano con la punta della dita. Questo è esattamente che fanno questi critici banali, sciocchi, i soliti diciamo, che muovono questo tipo di accuse ad Orkheimer e Adorno. Orkheimer e Adorno hanno semplicemente fatto un'analisi impietosa, ma anche necessaria, di un'epoca, di un mondo, di una società. Allora hanno visto che così come tempo fa abbiamo parlato di Solghenitsyn ad esempio, Solghenitsyn fa una cosa molto simile nel 78, decenni dopo, quando durante il suo discorso di Harvard dice una cosa pesantissima ed importantissima, lui scappato dai gulag, scappato da un'altra dittatura, la dittatura sovietica, all'altro lato della dittatura nazionalsocialista o nazifascista, va in America, ne viene ospitato a sua volta, riceve asilo, eccetera, e dice se io dovessi oggi consigliare ad un giovane quale dei suoi due sistemi migliore, non saprei cosa dirgli. Guardate che sono dichiarazioni pesantissime e fondamentali, importanti, perché sono dichiarazioni fatte da persone che avevano una conoscenza, a parte l'intelletto che avevano, ma una conoscenza diretta di prima mano dei fatti di cui parlavano. Solghenitsyn era stato nei gulag, o nei gulag. Orkheimer e Adorno erano sfuggiti alla dittatura nazista, uno dei loro più cari amici, il caso più importante, ad esempio quello di Benjamin, Benjamin non riuscì a sfuggire, si commise, si uccise sui Pirenei al confine con la Spagna perché pensava che l'avrebbero rimandato in Germania, per esempio. Cioè loro avevano vissuto queste esperienze, dunque è ancora più significativo il discorso che fanno, non è il discorso del signorino tranquillo, che non ha mai avuto appunto quello che crede che il pensiero subisca il gioco della riconoscenza. No, questa è gente che è scappata da queste situazioni, perciò è anche un grande monito e indubbiamente è anche un'anomalia quella che loro riscontrano, un'anomalia che spiegano. Infatti uno dei primi studi che fece Adorno quando in California, c'è una frase molto bella di Adorno che guarda caso è quasi impossibile da trovare nel grande archivio che è internet, il quale diceva il mondo potrebbe essere perfetto, potrebbe essere perfetto e invece è soltanto la California. Cioè voleva dire noi abbiamo i mezzi, avremmo le possibilità tecniche e sociali, amministrative per avere un mondo davvero migliore e invece abbiamo la California. Abbiamo i mall, abbiamo i supermercati, i ristoranti, le billette a schiera sul mare. A questo arriva la mancanza di immaginazione della nostra società. Ma non soltanto. Dicevo, uno dei primi studi, questo lo cito intanto perché è quasi sconosciuto, ma poi fa capire l'acume di Orkheimer e Adorno, che non è ovviamente in discussione, però solo per reiterarlo, e questo studio si chiama Stelle su misura. Studio guardate, io ogni volta che vedo queste cose, sempre la televisione di Stato in Italia che propone gli oroscopi, ogni volta che vedo queste cose penso ad Adorno, quando appunto negli anni 40 realizza questa inchiesta chiedendosi perché la gente crede negli oroscopi. Perché c'è questa relazione, questo bisogno, questa tendenza di rivolgersi a queste corbellerie scritte sul giornale, che poi già Shakespeare aveva munito contro questo. anche se c'è un passaggio molto famoso sul che il destino non era scritto negli astri, ma era, dipende da noi, dipende dalla scelta, dipende dalla libertà, ma attenzione, cosa fa Adorno? Comincia a studiare questo fenomeno e arriva ad una conclusione che è sublime. lui dice la tendenza a credere agli oroscopi o a fidarsi o a averne bisogno o a stare dietro a queste cose è un sintomo della personalità autoritaria, della personalità che può sottostare a un regime autoritario. Perché lui dice la differenza è sottile tra chi crede che le direttive della sua giornata, quelli che leggono l'oroscopo e dicono oggi non uscire di casa o fai questo perché oppure ti verrà quest'altro, ma in realtà cosa stanno facendo? Stanno abdicando alla loro libertà, alla loro capacità di analisi e tutta una serie di fattori che sono invece prerogativa e qualità di una personalità equilibrata razionale a favore di una voce supernaturale che ti dà, ti offre qualcosa, ti offre una direttiva, una linea sulla tua vita di cui tu che tu magari prenderai, ascolterai o non lo so, farei qualcosa. Invece questo è già in nuce e uno degli elementi che contraddistinguono una personalità che può facilmente sottostare così come sottostà all'autorità delle stelle può sottostare all'autorità di un Führer. L'analisi è estremamente rilevante e poi c'è tutto un discorso enorme che purtroppo non possiamo fare qui sul questo discorso verrà ripreso ed elaborato ad esempio un altro bellissimo libro sempre da un altro componente della scuola di Francoforte che era Eric Fromm un libro dal titolo Escape from Freedom Fuga dalla libertà anche lui stesso tipo di percorso scappato dalla Germania nazista rifugiato in America e anche lui sconvolto dalla realtà che aveva visto. Per altre versi anche personalità completamente politiche come poteva essere il grande logico matematico Kurt Gödel trovavano però da un punto di vista logico anche loro delle obiezioni similari ma non politicamente affini negli Stati Uniti quando infatti Gödel andò per ricevere la cittadinanza degli Stati Uniti siccome in America si faceva un gran parlare sul fatto che Hitler non sarebbe stato possibile e tutte queste altre cose se non altro per via della Costituzione Gödel trovò un loop logico dentro la Costituzione americana che avrebbe consentito un regime come quello hitleriano nazionalsocialista anche negli Stati Uniti lui disse raccontò questa cosa ad Albert Einstein che era il suo sponsor durante l'intervista della cittadinanza e Oscar Morgelstern anche lui grande amico di Gödel e anche lui e colui che fra l'altro guidò la macchina per andare a Trenton per il colloquio quando lui disse questa cosa ad Einstein e Morgelstern tutti e due gli dissero non parlare di questa cosa davanti al giudice è evidente che appena arrivarono il giudice gli fece la prima domanda Gödel cominciò a parlare esattamente di quella cosa il giudice però era sicuramente una persona di una certa cultura e aveva aveva già presieduto alla nazionalizzazione di Albert Einstein ciò si mise capì la situazione si mise a conversare con Einstein non diede troppo peso a quella cosa però vedete perché cito quest'aneddoto che non è rilevante ai fini del discorso chiaramente che stiamo facendo di Adorno e Orkheim però tutti questi discorsi potremmo fare moltissimi altri ad esempio un altro enorme discorso sul enorme pensatore che un giorno spero potremo affrontare sull'argomento è Günther Anders che si anche lui stesso tipo di esperienza Stati Uniti esperienza di questa libertà e Günther Anders però anche lui è un pensatore enorme che bisogna affrontare con bisogna dedicare un discorso interamente a lui però Günther Anders scrisse anche libri come Wir Eichmann Söhne Noi figli di Eichmann oppure famoso per quella lettera che lui scrisse al pilota che sganciò la bomba su Hiroshima chiedendogli facendogli delle domande umane psicologiche dicendo ma che cosa hai provato che cosa che cosa che cosa è avvenuto in te dopo aver fatto una cosa di questo genere e lui lì trovò una similarità appunto tra quella risposta è la risposta dei criminali nazisti a Nuremberg e lui disse io ho fatto semplicemente quello che mi era stato ordinato di fare e la stessa cosa era la stessa risposta era quella dei gerarchi nazisti a Nuremberg fino ad Eichmann al processo di Gerusalemme io ho semplicemente eseguito degli ordini anche lì Anders si chiede come è possibile che due sistemi in teoria così antitetici poi generino tipi umani inconsimili risposte persino delle risposte simili questo c'è da pensare no? da pensare non da ripetere che potremmo anche fare adesso qui il discorso andiamo a prendere un bignami dove c'è qualcosa sulla dialettica dell'euminismo scritto al giornotale scritto in quel posto fatta così non è così questo non è pensiero sarebbe un'altra cosa sarebbe appunto una ripetazione a domanda risponde verbale dei carabinieri non facciamo qui nessun verbale dei carabinieri ora perché dicevo prima che la dialettica è un'anomalia è un'anomalia perché all'interno ad esempio questo non è un libro che poteva essere presentato per un concorso perché universitari infatti il sottotitolo che spesso si si tralascia dice frammenti filosofici ma non perché la forma sia frammentaria non è frammentaria per nulla ma il frammento nel senso in cui sono pensieri che vanno ancora che che contengono ancora infiniti pensieri da pensare infatti e ci torniamo ma secondo me se si vuole capire se si vuole iniziare bene la lettura della dialettica dell'illuminismo bisogna prima leggere un testo di Marx Orkheimer perché molta gente parla della dialettica come se fosse un libro di Adorno ma in realtà c'è molto più di Orkheimer di quanto non vi sia di Adorno o quantomeno si capisce subito dove c'è Orkheimer e dove c'è Adorno Adorno è nei voli pindarici molto belli nei riferimenti mitologici il discorso su Ulisse eccetera ma Orkheimer invece va sul sul discorso diretto adesso io non so di chi è di chi a chi dei due si possa attribuire la famosa frase tradotta in italiano che nella e nella nel primo all'inizio proprio del del primo capitolo sul concetto di illuminismo quando Adorno e Orkheimer dicono io leggo la traduzione perché tradotto molto bene qui ho il testo che non è in italiano ma la terra interamente illuminata splende all'insegna di trionfale sventura cioè questa è la questa è la frase di apertura che riassume riassume il la prospettiva che Adorno e Orkheimer assumono in questo testo di non più del tessere le lodi di questo movimento che avrebbe in teoria liberato che l'illuminismo che avrebbe liberato avrebbe fatto chissà quali grandi meraviglie ma dicono questo movimento in realtà ha illuminato la terra con una luce di trionfale sventura e dicevo per capire bene o meglio è un libro che appunto un libro che cui bisognerebbe dedicare semestri e semestri ma per avvicinarvisi nella maniera propria io suggerisco prima della lettura della dialettica la lettura di un libro di Max Orkheimer che in tedesco si chiama Demmerung e in italiano è stato tradotto con Crepuscolo anche questo è un libro nella sua struttura anomalo nel senso anomalo per un accademico perché il sottotitolo recita appunti presi in Germania dal 26 al 1931 perché anomalo perché ci sono delle riflessioni così dirette sono degli appunti degli spunti infatti il testo sono dei paragrafetti che raramente superano la pagina pagina e mezzo e qui Adorno Adorno scusate Archheimer mostra mostra una una lucidità una capacità quasi chirurgica di leggere nelle nei travestimenti concettuali e ideologici della società vedete perché è importante tutti questi testi abbiamo parlato spesso di testi che vengono pubblicati subito dopo la prima guerra mondiale perché la prima guerra mondiale è un evento determinante per comprendere anche la nostra storia noi a scuola ci fanno perdere un sacco di tempo a studiare tutta una marea di cose che sono lontanissime da noi e non hanno una rilevanza diretta mentre questi eventi questi libri questi testi non vengono espunti dal discorso culturale pensate sulla dialettica dell'uminismo ci sono anche libri che ne parlano che lo calunniano in sostanza c'era uno di questi libri che io trovai una volta in una biblioteca di seconda mano e costava tre dollari non l'ho voluto prendere neanche per tre dollari però una roba appunto creata dall'accademia contemporanea per tentare di ridimensionare il valore il peso e la rilevanza della dialettica dell'illuminismo ovviamente non io trovo anche curioso che se ne siano occupati perché in realtà con l'apparanza con il senato mediatico con la potenza ideologica che è in mano ai dominatori della nostra società un testo come la dialettica non non li preoccupa innanzitutto perché è un libro poi perché è un libro complesso e poi perché è un libro che non si fa leggere che non si fa studiare non rappresenta davvero un problema per coloro che gestiscono le società contemporanee e quando dico questo vorrei che fosse chiaro parlo delle oligarchie dominanti cioè di coloro che appunto detengono i mezzi e determinano i fini io dico sempre che le oligarchie nella storia vedete questa è un'altra cosa interessante singolare quando uno pensa alla storia pensa sempre l'anno scorso dieci anni vent'anni cento anni invece la nostra storia curiosamente la storia della società delle società umane delle società storiche cioè diciamo questi 6.000 anni circa che attenzione sono pochissimi rispetto alla storia della nostra specie sono veramente un lampo finale che forse appunto finirà in tragedia ma rispetto alla quando si parla della società bisognerebbe partire da 6.000 anni fa anche per parlare di oggi perché se voi notate alcuni modelli socioculturali non sono cambiati questa è una cosa strana cioè non è strana per chi ne comprende le ragioni perché noi abbiamo 6.000 anni di storia documentata con brevissimi intervalli dove non vi è una struttura gerarchico oligarchica noi abbiamo trasferito il concetto di gerarchia così tanto dentro la società da ritenerlo come naturale e questo appunto chi vuole questo chi sta al sommo della piramide non sono discorsi difficili in realtà sono discorsi semplici che però si vengono travestiti infatti vengono travestiti da tutta una un armamento con tutto un armamentario ideologico così come quando oggi si dice si parla così tanto di democrazia è un tema fondamentale di cui non si parla davvero se noi chiedessimo se avessimo qui un greco dell'anno del quinto secolo avanti Cristo e gli dicessimo gli spiegassimo come funzionano le nostre società e gli dicessimo allora siamo bravi siamo democratici il greco ti direbbe ma tu sei impazzito ma tu hai perso il lume della ragione voi non siete democratici per niente voi siete dei sistemi oligarchici il greco non avrebbe nessun dubbio in proposito ovviamente un greco dell'epoca della democrazia perché noi prendiamo questa parola e la trasferiamo alla storia la democrazia è un fenomeno che è stato estremamente limitato nella storia è stato limitato da una fase della storia greca ed è finito lì infatti già i romani per i romani la democrazia non esiste in latino non c'è neppure la parola per la democrazia però oggi noi ci attacchiamo un sacco di termini non è vero noi siamo società oligarchiche quando io dico non è un discorso ci sono i sette non è così noi viviamo in società gestione gerarchico oligarchica questa è la natura della nostra società che forse abbiamo un giorno di democrazia ogni quattro anni quando andiamo a votare però anche quello che democrazia può essere una democrazia in cui chi detiene i mezzi sa dirti sa dirigere la tua mano quando ho il tuo dito quando premi il pulsante dentro la cabina elettorale cioè è un discorso scombinato quello di ritenere che noi siamo delle democrazie poi tutti i motivi questi infatti erano appunto i motivi di perplessità che muovevano il pensiero di autori come Orkheimer Adorno Scuola di Francoforte e tutti questi altri autori che dicevano ma come è possibile noi ci troviamo di fronte ad un mondo che ha la potenzialità le possibilità per essere migliore per essere altro e continuiamo ad essere un mondo di clave e martello e allora tu dici e loro hanno provato ad analizzare questa situazione utilizzando gli strumenti della sociologia e della filosofia in una maniera sublime appunto io dicevo questo libretto Crepuscolo si legge che è una delizia e poi la cosa straordinaria è che scritto dal 26 al 31 cioè trattando di eventi di suggestioni che Max Orkheimer trascrive tra il 26 e il 31 è di un'attualità è di una guardate voglio voglio perché qui non devo tradurre per se ve lo posso inizia proprio il primo paragrafetto è quello che dà il titolo al libro sia in tedesco sia in italiano Crepuscolo e ovviamente lui parte così come altri autori di cui abbiamo anche accennato parte dall'idea che il Crepuscolo sia già avanzato ha ragione ha perfettamente ragione spero che nessuno penserà sì ma era il 1931 oggi siamo nel 2018 nei tempi storici 31 e 18 sono è un attimo nei tempi delle società nei tempi planetari nei tempi storici sono momenti sono momenti che stanno insieme non stanno non sono separati soprattutto perché quello contro cui ammonivano tutti questi tutti questi pensatori grandissimi dalla grandissima dignità è andato avanti noi non siamo una società migliore non siamo per niente ci viene detto questo siamo una società in cui la manipolazione ideologica degli individui è andata infinitamente più avanti rispetto a quello che erano i mezzi che possedevano negli anni 30 come dicevamo il fatto che oggi si ritenga come un fatto si ritengono si ritengono molti molti elementi anche estranee alla natura umana come naturali quando si dice non soltanto quello che dicevamo sulla struttura gerarchica che viene considerata come una struttura normale e necessaria per il funzionamento di una società non è vero nulla è una sciocchezza enorme la società greca appunto non era non era gerarchica la democrazia era un tentativo di andare di andare contro il meccanismo oligarchico non soltanto ci sono esperienze piùmente limitate ovviamente contro le quali tutti si accaniscono contro perché dimostrano che i nostri paradigmi sono sbagliati ma ci sono molte esperienze ci sono state in molti paesi delle delle fabbriche autogestite dove non c'era non c'era una struttura gerarchica funzionavano meglio delle fabbriche gestite a struttura gerarchica ovviamente la concorrenza che venne fatta contro questi era fatta intenzionalmente proprio per distruggere questo esperimento perché sarebbe stato sono sono pessimi così come c'è un evento di cui di cui è quasi scomparsa traccia nella storia ma ci fu c'è stato un periodo in cui vi fu uno stato tra il gran ducato di toscana e il regno pontificio il gran ducato di toscana e il regno pontificio erano sempre finivano sempre in lite sempre alle mani sempre in guerra quando però si trattò di eliminare questo stato che era uno stato autogestito indipendente di gente che faceva commercio faceva le sue cose si unirono insieme sia lo stato della chiesa sia il gran ducato di toscana guarda caso perché era un esperimento pericoloso per il modello che ci viene imposto dicevo non soltanto ad esempio l'idea che appunto che la società sia gerarchica e ormai sia necessariamente gerarchica e ormai passata nelle menti della gran parte delle persone ma anche discorsi come morso tua vita mea che è una delle basi che abbiamo avuto modo di accennare del meccanismo attraverso cui si dominano gli individui perché quando io ti faccio credere che c'è una guerra tra me e quello che sta passando fuori di casa allora sto creando che cosa sto creando un meccanismo della divisione io non mi metterò insieme a quello che sta camminando davanti a casa mia perché è mio nemico invece non è così le oligarchie nella storia hanno sempre avuto due nemici quelli che gli stavano sotto cioè noi e le altre oligarchie che gestivano altre persone in altri posti quando ad esempio quelli che stavano sotto noi abbiamo assunto un livello di consapevolizzazione o avremmo potuto assumere un livello di consapevolizzazione tale da essere o rappresentare una minaccia per l'oligarchia dominante si sono fatte delle guerre così si sfoltivano quelli perché contro cui le oligarchie erano contro poi anche lì nella modernità globale le oligarchie non sono più neanche contro le une contro le altre mai sono semplicemente contro chi sta sotto forse sono quelle un po' come diceva Orwell che il mondo è stato diviso in tre grandi blocchi in quattro grandi blocchi dove ci sono quattro grandi oligarchie però alla fine se queste oligarchie andassero in conflitto utilizzando noi come carne da cannone la storia ci insegna che poi alla fine anche l'oligarchia che perde non sarà trattata così male come erano una volt come poteva essere in epoche passate pensiamo appunto al processo di Norimberga il processo di Norimberga il processo dei banchieri è stato una farsa il processo di Norimberga da un lato quegli undici gerarchi che sarebbe stato troppo troppo anche per loro evitare di condannare quelli che erano all'apice diretto politico esecutivo ma tutto il resto il processo ai medici il processo ai banchieri ai finanzieri sono state delle enormi farse che si sono conclusi perché con con pene miti e in alcuni casi nessuna pena cioè le oligarchie alla fine tendono perché hanno un interesse comune al preservare un modello di mondo che è utile a loro infatti durante periodo post bellico si credeva che ci sarebbero stati questi grandi rivolgimenti allora Orkheimer scrive l'accanimento e il terrore con cui si difendono gli idoli vacillanti rivelano quanto il crepuscolo è già avanzato con la grande industria l'intelletto delle masse in Europa è aumentato al punto che i beni più sacri ne devono essere difesi chi li difende a dovere ha già fatto la sua carriera guai a chi con parole semplici dice la verità oltre all'istupidimento generale sistematico e la minaccia di rovina economica di proscrizione sociale di carcere e morte a impedire che l'intelletto attenti ai supremi strumenti di dominio concettuali è quello che dicevamo ad esempio continua con quello che dicevamo prima sull'apparato di controllo ideologico che quell'epoca e la nostra non c'è neanche il rapporto l'imperialismo dei grandi stati europei non ha ragione di invidiare il medioevo per i suoi roghi i suoi simboli sono protetti da apparati più raffinati e da guardie meglio armate dei santi della chiesa medievale e poi infatti tutti passano questo libro e guardate anche quest'altro passaggio che spiega molto meglio di come ho fatto io quello che dicevo sulla persona che ti cammina davanti casa gli uomini o gli esseri umani si frequentano si parlano fanno affare insieme si perseguitano senza che peraltro l'uno veda l'altro senza che l'uno veda l'altro paragrafo ad esempio su carattere avanzamento sociale molti si renderanno conto che al vertice di questa società stanno i terribili e qui spiega non voglio andare nei dettagli perché appunto solo questo libro ma questa frase sul al vertice della nostra società stanno i terribili mi ricorda anche una frase di Orwell spesso citata quando dice che la nostra società è un luogo dove è come una famiglia in cui il parente più strambalato il parente peggiore ha preso il controllo della famiglia le due affermazioni sono molto simili sono molto vere la domanda però rimane nevasa perché come mai chi ci ha portati a tutto questo vedete personalmente che soltanto la mia modestissima opinione dunque errata scherzo ma soltanto un mio parere discutibilissimo ma io non credo ne sono fermamente convinto quando le persone ad esempio quando noi ci sono quelli che si lamentano ma in realtà un meccanismo come quello che noi vediamo nelle società storiche non sarebbe possibile senza la complicità diretta o indiretta dei dominati la complicità significa non fare quello che ad esempio stiamo facendo qui oggi tacere come come diceva quella di adorno che essere 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 irriconoscenti la complicità è essere riconoscenti invece e aspettare che ci arrivi una prebenda e il mettersi col cappello in mano davanti a chi detiene i mezzi e essere pronti a tutto vedete qualche giorno fa io vedevo succede molto spesso in televisione di vedere queste interviste dove i giornalisti vanno a rompere un po' le scatole a quel politico quell'altro politico e a me non colpisce il politico che è appunto quel terribile di cui parla Horkheimer oppure il parente malato di cui parla Orwell perché quello va bene quello fa parte della distribuzione statistica ci deve essere quell'outlier si dice quello che è o troppo buono o troppo cattivo ma quello che fa molta impressione sono quelli che gli stanno attorno sono tutti quei piccoli servi sono tutti quei piccoli è quella gente lì che rende possibile questo meccanismo perché ritiene che sia nel suo interesse infatti il vero interesse sarebbe quello di riuscire a far capire qual è scusate il vero discorso culturale sarebbe quello di riuscire a far capire qual è il vero interesse Manzoni infatti diceva quella frase bellissima che non mi stancherò mai di ripetere e diceva bisognerebbe pensare più a far bene che a star bene e così si finirebbe anche a star meglio basterebbe riuscire a fare perché perché Platone parte da un concetto della democrazia come paideia come didattica come far capire perché quando tu avrai capito cos'è nel tuo interesse vero non potrai non potrai più agire in quella maniera non potrai più eseguire gli ordini in maniera cieca quando ti dicono adesso vai sgancia una bomba che uccide in un momento centomila persone e non centomila soldati anche quello io lo trovo estremamente orrendo e discutibile però avrebbe una sua razionalità che non ha più nel momento in cui tu vai a uccidere tutto tutto individui piante animali tutto una cultura della morte una cultura della follia che è resa possibile da che cosa resa possibile da non capire qual è il nostro vero interesse questi libri questi libri sono solo degli strumenti perché dissezionano nel dettaglio le strutture che vengono utilizzate per farci essere quelle belve che noi non siamo l'essere umano non è una belve vedete anche lì il pensare il fatto che ci sia stato inculcato che gli esseri umani sono cattivi per natura sono malvaggi per natura è una tesi è una tesi importante ma io toglierei toglierei il per natura infatti Biante di Priene diceva i molti sono cattivi non diceva sono cattivi per natura vedete l'intelligenza dei greci noi invece diciamo per natura perciò si assume già che il comportamento umano sia un comportamento negativo ma quando ma dove noi abbiamo esempi di comportamenti umani che sono sublimi che sono stellari Massimiliano Colbe e ne faccio un esempio ce ne sono Bonhoeffer individui che andrebbero ricordati ogni giorno di cui bisognerebbe parlare costantemente e invece non se ne parla perché bisogna ricordare quello che quello che si ritiene confermi la tesi ideologica sulla quale sulla base della quale poi si agisce perché è naturale agire secondo ciò che si ritiene vero ma quando chi detiene i mezzi è in grado di determinare la tua concezione del mondo è come dire per spiegarlo in maniera estremamente semplice se uno mi chiede voi andate per strada e chiedete l'informazione a un tipo dove si va per quella via in quel momento quella persona ha un potere ha il potere di mandarvi completamente dall'altra parte e questo avviene costantemente nella società avviene come appunto controllando i mezzi che propongono i concetti l'informazione che creano che stabiliscono le ideologie che creano i blocchi mentali nelle persone quelli di coloro che dicono io ti ascolto se stai dalla mia parte c'era un vecchio proverbio che diceva se proverbio per chi pensa che diceva se puoi permetterti un solo giornale compra quello del tuo avversario quello è l'intelletto cioè è chiaro non c'è bisogno di spiegarlo no? invece noi noi coloro che detengono i mezzi sono riusciti a creare una società che va dalla parte contraria ma perché questo è al loro beneficio perché crea appunto disunità divide e timpera non l'hanno mica inventato oggi e proprio lì proprio sono perché io dico sempre che noi siamo ancora la società romana perché la società romana di tutti questi criteri ne fa ne fa il modello modello chiaro il problema è che non essendoci discorso non può esserci crescita non può esserci didattica non può esserci quella paideia democratica di cui che voleva Platone anzi bisogna andare addosso a tutti quelli che infatti Orkheimer lo dice anche questo è un altro libro che non potrebbe essere presentato come concorso a cattedra perché lui dice chi dice chi con parole semplici dice la verità rischia la rovina economica la proscrizione sociale il carcere ed è vero ed è vero non è un caso che nella storia il gruppo più perseguitato tra tutti sia quello di chi pensa la storia è costellata di decapitazioni roghi cose orribili contro chi pensa contro chi ha avuto l'ardire di pensare certamente non pensare in maniera finalizzata Ogilvy quello che inventò le le agenzie pubblicitarie la pubblicità di massa quello chiaramente è morto nel suo letto su un attico Bernays ovviamente quello non è pensiero almeno secondo quell'ottica che dovrebbe essere insegnata secondo cui il pensiero è ciò che è bene Platone sempre Platone aspirazione al bene tu fai una cosa che ti procura ti procura guadagno ti procura quello ma ti distrugge indignità in intellettualità in individualità mi dispiace è un prezzo troppo alto da pagare tempo fa io mi ricordo camminavo in macchina con un amico e guidavo questo amico c'era una zona in cui in America in cui c'erano delle case di questi super ricchi in zona della costa del New Jersey e e io gli chiesi se per favore potevamo fare un'altra strada e mi chiese ma perché mi disturba vedere queste cose ma perché ma tu non vorresti avere una casa così ci ho detto no perché il prezzo è troppo alto lui ha capito male ha pensato che il prezzo era troppo alto economicamente non ha capito che il prezzo di queste cose è troppo alto in termini umani in termini della tua individualità della tua dignità è troppo alto è infinitamente Gesù questo lo dice nel Vangelo con una frase che mi serve il mondo intero quando poi perdo la mia anima vedete quello è l'insegnamento etico morale che si deve cancellare si cancella in tanti modi esempio il messaggio cristiano si cancella attraverso insegnamenti religiosi catechistici in cui diventa appunto un dare avere con la divinità una rozza trasformazione di quella che è la verità del messaggio religioso storia è piena di questi esempi di queste situazioni in cui concetti anche enormemente positivi sono stati trasformati in delle caccole oppure delle cose oppure sono stati cancellati io io penso che quando quando Adorno era in Inghilterra Eurkheimer gli scrisse per invitarlo perché era riuscito a procurargli un contratto di due anni di lavoro di due anni negli Stati Uniti di ricerca e nella lettera Eurkheimer gli scriveva che nei suoi corsi nel suo insegnamento avrebbe dovuto evitare tutta una serie tutta una terminologia tra cui persino il termine materialistisch materialistico perché in una cultura come quella americana degli anni 40 già era proibito contestare cose come il materialismo infatti non è un caso che poi la cultura degli anni 40 americana dopo la guerra confluisce nel maccartismo la storia è lì è davanti agli occhi bisogna saperla vedere il maccartismo è una forma di fascismo post bellico è un fascismo in chiave anticomunista anche contro le stesse evidenze o pseudotali storiche che questi signori avevano creato perché guardate c'è una cosa che a me ha sempre colpito nel momento in cui si voleva sconfiggere il nazifascismo le presunte democrazie occidentali hanno fatto un accordo con chi? con Stalin con uno dei peggiori uno dei dei peggiori criminali che il ventesimo secolo abbia visto e il ventesimo secolo non si è fatto mancare poi molto in termini di criminali ora ma come mai questi regimi democratici nel momento in cui c'è da mettere giù le carte guarda caso si vanno ad alleare con uno che loro dicono che è il contrario dei regimi democratici infatti questo atteggiamento antisovietico che durante la guerra o anticomunista quello che volete che durante la guerra era stato cancellato dalle menti degli americani perché di un tratto Stalin divenne il salvatore della delle democrazie quello che combatteva Hitler eccetera mentre era uno che aveva fatto prima il patto un patto con Hitler il patto Ribbentrop Molotov anche questo si studia poco cioè le nazioni grandemente democratiche che hanno fatto questa guerra per grandi ideali la vincono grazie all'aiuto di un grande criminale che era stato prima alleato di Hitler guardate che c'è da impazzire quando uno pensa che come viene insegnata la storia rispetto a quello che la storia è torniamo torniamo per un attimo ad Orwell Orwell racconta un fatto che è è straordinario come tutte le cose di Orwell Orwell dice siccome aveva sentito durante la guerra Orwell lavorò per la BBC e aveva sentito la notizia che a Berlino per rinvigorare i tedeschi il regime aveva detto che nella notte tra il 3 e 4 insomma in quella settimana c'erano stati dei bombardamenti pesanti bombardamenti tedeschi su Londra Orwell era a Londra non vi fu nessun bombardamento in quel periodo la propaganda nazista lo disse per per ragioni sue per influenzare per far capire ai tedeschi che la guerra stava andando bene questo e l'altro Orwell dice una cosa che è fantastica lui dice il fatto che vi siano stati questa settimana dei bombardamenti su Londra o meno dipende da chi vincerà la guerra lui dice se vinciamo noi non ci sono stati perché non ci sono stati perché abbiamo visto abbiamo vissuto ma se vincono i tedeschi la storia ricorderà dei bombardamenti mai avvenuti come reali o quanto meno la storia di un certo periodo perché anche gli Stati Uniti ad esempio hanno fatto cose di questo genere pensate l'incidente del Tonchino che in realtà non è mai avvenuto però se tu avessi detto che l'incidente del Tonchino non è avvenuto ancora dieci anni fa la cospirazione la pazia non è vero e adesso invece sono stati costretti ad ammettere che non è mai avvenuto l'attacco all'incidente del Tonchino che poi ha determinato l'escalation nella guerra del Vietnam sono cose però Hallwell lo dice benissimo dice dipende da chi vincerà la guerra se vincono i tedeschi questo bombardamento anche se non c'è stato c'è stato ora il modo in cui ad esempio noi studiamo la storia quando si studia l'invasione della Polonia l'invasione dei tedeschi della Polonia no l'invasione dei tedeschi e dei russi e allora poi quelli che lo ricordano poi ci fanno su tutto un castello ideologico vabbè perché siamo sempre lì ma i fatti rimangono sono e rimangono fatti come diceva sempre Orwell la libertà è la libertà di poter dire che 2 più 2 fa 4 contro gli arbitri appunto del partito di turno dell'ideologia di turno che poi alla fine se gratta gratta è sempre dell'oligarchia di turno vedete come appunto i discorsi che non sono davvero complessi non sono davvero cioè è ovvio che ci si può andare in profondità e trovare delle complessi una complessità particolare però nella loro struttura generale i discorsi non sono complessi certo con questo non si vuol dire che bisogna ipersemplificare però nelle linee generali i discorsi vedete a me quando ad esempio politicamente mi capita molto spesso se io sento la dichiarazione di qualcuno che io so che è un che è un indefinibile che è un individuo dal quale non non ci si può aspettare nulla di buono che so il presidente correa l'attuale presidente degli Stati Uniti la cancelliera tedesca questi qua nel momento in cui dicono qualcosa con cui io mi trovo d'accordo il primo mio problema è quello di verificare quello che io penso perché dico ci deve essere qualcosa di sbagliato in quello che io penso se questo qui sta dicendo una cosa che ci assomiglia succede rarissimamente però quando succede la prima cosa da mettere in discussione è il proprio la propria opinione sul sul tema in quel caso uso opinione proprio nel senso platonico perché se lo dice uno di questi ci deve essere qualcosa che non va poi l'idiota o il cretino può anche dire la cosa giusta per il motivo sbagliato ma in genere questi quando dicono qualcosa hanno sempre un motivo per dirla hanno sempre una ragione per dirla non fanno mai dichiarazione a caso c'è sempre un copione è un copione che è un copione scritto appunto da coloro che hanno un interesse da coloro che determinano i fini per questo per questo concludiamo sono sempre degli inviti degli inviti degli inviti a dei percorsi di lettura non certo appunto delle ripetizioni di cose di cose lette non manuale però prima di concludere c'è anche un altro problema questi libri sono così intensi che uno finisce per notarli così pesantemente che è difficile trovare un passaggio in maniera rapida adesso cercavo un passaggio sulla ecco proprio nella prefazione alle due edizioni 44 e 47 infatti poi Adorno e Alcamer avevano questo libro un po' quando tornarono in Germania e tornarono a dirigere la Alcamer divenne rettore dell'università di Francoforte e Adorno all'istituto di l'istituto for social fortune il ricostituito l'istituto for social fortune tenevano un po' lontano questo libro perché appunto è un libro ribelle un libro che mal si attaglia ad una struttura concettuale alla struttura concettuale della cultura detta ufficiale perché un libro che dice troppa verità in maniera troppo intensa troppo diretta allora ci sono sempre i saputelli i critichetti quelli che quelli che la sanno sempre meglio che però nel saperla meglio difendono la tesi di qualcuno perché poi gli darà la mancetta ci sono sempre quelli che attaccano da tutte le parti e come diceva Marcantonio anche il più grande il leone più forte può essere ucciso da una banda di cani e questo questa è una delle ragioni a mio avviso per le quali poi questo libro loro lo tendono un po' più a distanza e anche un po' dopo molto tardi Orkheimer diceva sì ma era un libro in cui si parlava anche di una ristrutturazione della società perché la società in quel periodo in quel momento era la germania nazista ad esempio e allora c'era più questa necessità di di una di un ripensamento delle strutture della società infatti lui poi negli anni sessanta diceva non so se oggi questo sarebbe di nuovo se questo libro ancora ha la sua la validità che aveva all'epoca io credo appunto che volessero un po' schermirsi volessero un po' allontanare l'attenzione da un libro che è invece esplosivo invece è un libro che dovrebbe essere determinante e purtroppo non lo è ma infatti se voi io ho fatto tempo fa feci una fotografia nella libreria una delle librerie principali di francoforte che si chiama la hugendubel andai nella sezione di filosofia c'erano quattro libricini di adorno non c'era la dialettica c'erano in minima moralia credo feci proprio uno scatto di questa di questa libreria perché tu ti immagini che a francoforte ci sia tutto tutto uno scaffale dedicato alla scuola di francoforte neanche da lontano c'erano più libri su quella charlatana della Hannah Arendt che non su questi pensatori incredibili come Adorno Horkheimer Marcuse di Marcuse c'era una serie di conferenze questo è quanto perché appunto bisogna depotenziare un messaggio bisogna portare avanti le mezze figure i pagliacci e prendere i libri seri e seppellirli oppure non metterli non metterli in mostra adesso questo avviene non questo avviene appunto perché manca un dialogo culturale non c'è questo dialogo culturale che invece innesta un discorso sui discorsi reali e tutto questo avviene attraverso proprio c'è un apparato strabiliante i premi letterari i premi filosofici i premi di qua i premi di là le catele c'è un apparato incredibilmente strutturato per evitare che il pensiero passi alla società per impedire che gli esseri umani parlino perché se tu parli vedete il dialogo il sommo bene non è che Socrate lo diceva così come una frase leggera lo diceva come una frase sublime e fondamentale dialogo il sommo bene perché crea quel ponte tra gli esseri umani perché crea quella capacità degli esseri umani di andare insieme di capire e dire un momento ma quello mi ha detto che siamo nemici però tu non mi sembri un mio nemico hai gli stessi miei problemi hai le stesse mie domande hai la stessa mia sofferenza in una società costruita in questo modo Schopenhauer ad esempio la risolveva il mondo è negativo è malvagio è brutto ma non è così la sapienza arcaica diceva quando l'onnipotente creò il mondo disse che era buono Tob solo per l'uomo non lo dice ma per tutto il resto dice che era era buono ma non è che non lo dice perché l'uomo è un malvagio attenzione perché adesso poi uno dice allora ti stai contraddicendo no non è così non lo dice perché l'uomo l'essere umano ha la possibilità di scegliere all'essere umano è stata data la libertà della scelta dunque l'onnipotente non può dire se è buono perché se dice che è buono lo depriva della libertà di scegliere questa è una cosa fondamentale da capire la scelta è la chiave di volta dell'etica della libertà di qualunque cosa e allora la Bibbia che è un libro astutissimo capisce che non può far sì perché la natura fa quel che deve non fa quel che può o che vuole l'essere umano l'essere umano è l'unico essere che fa quel che vuole quel che può sceglie la pietra non sceglie persino la mucca non sceglie sono vedete la superiorità dell'animale rispetto all'essere umano è data dal fatto cioè l'animale che non è un predatore ovviamente è data dal fatto che l'animale ha impresso il comandamento dell'onnipotente dunque può essere soltanto buono la Bibbia appunto è costellata di questi esempi l'agnello forse è quello più rilevante l'animale che avendo il marchio dell'onnipotente avendo impressa la volontà dell'eterno può essere soltanto buono l'essere umano a quale invece è data la scelta può essere l'una cosa o l'altra e lì è tutta la sua dignità tutta la sua grandezza citiamo adesso dalla prefazione che secondo me è è un buon finiamo dal principio finiremo questo discorso dal principio del libro e con un consiglio se qualcuno volesse iniziare nella lettura di farlo precedere da crepuscolo di Orkheimer nella prefazione lui immediatamente spiega che quello che ci eravamo proposti di fare era è di spiegare perché l'umanità invece di entrare in uno stato autenticamente umano sta invece precipitando in un nuovo tipo di barbarie questo è un tema che appunto torna sempre nella scuola di Francoforte perché potendo avere un mondo migliore scegliamo di avere un mondo così com'è che appunto è la domanda di chi pensa perché chi pensa non si limita allo stato delle apparenze vede e anche per questo forse è la radice principale della sofferenza che viene attribuita al pensiero nel corso della storia in molto pensiero in molto dolore di la Bibbia è attribuibile al fatto che chi pensa non vede il mondo semplicemente così come appare ma lo vede anche come potrebbe essere e lì da quello emerge quella sofferenza del pensiero rispetto al mondo i greci lo dicevano in una maniera meravigliosa quando dicevano tapatimata matimata tapatimata matimata che significa matimata viene da come matematica la radice matema matimata e nella matematica nella scienza nella conoscenza nell'apprendimento delle cose tapatimata la sofferenza è parte dell'apprendimento delle cose di nuovo una versione greca del molto sapere e molto dolore e parlando dello zeitgeist della nostra epoca in questa nella prefazione dicono se la vita pubblica ha raggiunto un livello in cui il pensiero è stato trasformato in una merce e il linguaggio della celebrazione della merce il tentativo il tentativo di tracciare le fonti di questa degradazione deve rifiutare l'obbedienza alle richieste alle correnti richieste linguistiche ed intellettuali prima di essere resa inutile dalle conseguenze di queste richieste per la storia mondiale vedete tre elementi di critica di questo libro sono così come lo saranno in crepuscolo così come la saranno infatti non dobbiamo dimenticare che la scuola di Francoforte è di impostazione a due a due grandi bisnonni o padri io direi nonni che sono Marx e Freud e la scuola di Francoforte tende a conciliare queste due cose perché se Marx dice che il problema della società è un problema tecnologico senza lui dice quando gli individui hanno quelle capacità tecniche le adoperano per fare questo questo e questo dunque questo poi determina il conflitto della lotta tra classi però riduce praticamente la dialettica della società a una questione di mezzi mentre Freud dirà sì ma non ci sono soltanto i mezzi c'è anche l'essere umano c'è l'individuo ci sono le pulsioni c'è il concio c'è il subconscio c'è l'inconscio ci sono c'è una struttura psicologica che determina anche l'indirizzo della tecnica che poi e voi chiedete a me io vi direi stiamo tornando di nuovo a Platone perché se tu cambi il modo in cui l'individuo pensa vede sente intende il mondo hai cambiato il mondo inutile se tu dai questa è una vecchia diatriba con con le sciocchezze che diceva Hawking quando diceva che una civiltà avanzata se viene qui ci fa fare a noi la fine degli degli inc delle popolazioni mesoamericane quando arrivarono i conquistadores una sciocchezza enorme perché noi eravamo dei barbari certamente il barbaro pensa solo in termini di barbarie ma una civiltà davvero avanzata è una civiltà che ha oltrepassato quella fase del primitivismo della violenza della brutalità è una società che probabilmente non conosce più non pensa non pensa più in questi termini cambia il modo in cui gli esseri umani pensano avrei cambiato il mondo avrei cambiato la società avrei cambiato quelli che vengono attribuiti che ci vengono attribuite da un'ideologia colpevole come qualità innate come quella dell'aggressività infatti Fromm dedicherà un libro uno dei libri teoricamente più importanti che si chiama analisi della distruttività umana lui non la chiama aggressività vedete la chiama distruttività e lui dice che cosa un elemento fondamentale in questo testo e chiavi di lettura fondamentale in questo testo di Fromm è quando lui dice la distruttività è il contrario della creatività perciò se insegniamo agli esseri umani ad essere creativi al tempo stesso gli insegniamo a non essere distruttivi guardate che è una lezione possente che viene dalla cultura è una lezione una delle tante che sarebbero in grado di cambiare il mondo come dicono appunto Adorno e Dorkheimer perché sarebbe in grado di spiegare il perché noi potendo avere un mondo migliore scegliamo il mondo peggiore perché abbiamo quella libertà di scegliere che però viene indirezzata attraverso attraverso un modello un quadro di mondo in tedesco si direbbe una Weltanschauung falsa costruita ad arte per beneficiare coloro che tengono le società storiche sotto scacco da almeno 6.000 anni la cultura però nonostante tutto continua a resistere grazie